Entriamo in una questione questa sera di punto di a capo piuttosto tecnica ma che interessa un po' tutti. Parliamo di una legge, una legge che quest'anno compie 10 anni, la 231 del 2001. Una legge che di fatto andava ad estendere la responsabilità penale non soltanto alle persone fisiche, che è uno dei principi fondamentali del diritto penale, ma anche alle persone giuridiche. La prima cosa che le chiedo è perché nacque questa legge e quali sono stati, diciamo, i casi più eclatanti in positivo da ricordare ai nostri ascoltatori? Allora la legge è nata, come spesso accade in Italia, non tanto per nostre autonome riflessioni ma perché, tra virgolette, impostaci dall'Unione Europea e dall'Ocse. Quindi per recepire alcune convenzioni internazionali sulla corruzione il nostro legislatore decise di introdurre nel nostro ordinamento giuridico la legge 231, decreto legislativo 231. Sono passati 10 anni e devo dire che le applicazioni sono state prevalentemente negative, nel senso che i giudici hanno applicato questa norma in maniera piuttosto severa nei confronti delle società. Ad oggi c'è stato un solo caso di esito favorevole del processo penale a carico di una società, peraltro una società importante, la società Impregilo, che è quotata in borsa. Faccio riferimento a chiaramente notizie anche note giornalisticamente, notizie di stampa. Ebbene questa società è stata assolta dal giudice del Tribunale di Milano a fine 2009, mentre i suoi amministratori sono stati rinviati a giudizio. Questo è proprio il sistema previsto dalla 231. Quindi coesistenza nello stesso processo penale tra una società e le persone fisiche che commettono certi reati. Per lo più le applicazioni dicevo... Ecco, no, Avvocato, perché è importante portare questi aspetti che sembrano lontani da noi, ma non lo sono, anche alla cronaca di tutti i giorni. Abbiamo ancora negli occhi le immagini di quello che è successo in Giappone. Sull'ambiente e il rapporto della 231 potrebbe succedere qualcosa, potrei dire, in positivo. In che senso, Avvocato? Potrebbe accadere qualcosa di positivo e in realtà di atteso da decenni, vale a dire, l'inserimento nel codice penale italiano di una serie di reati ambientali, i quali saranno peraltro richiamati nella legge 231. E in relazione quindi a questa numerosissima serie di delitti ambientali, pensiamo a tutte le forme di inquinamento possibili ed immaginabili, da quello del suolo a quello delle acque, all'inquinamento elettromagnetico, anche al problema del rischio nucleare di cui si sta tanto parlando, in relazione a tutti questi reati potrà essere chiamata a rispondere anche una società. Quindi è facile rendersi conto della portata davvero epocale di questa riforma che dovrebbe di qui a qualche tempo essere introdotta, in quanto c'è già una delega e c'è già una direttiva europea che è scaduta, che è entrata in vigore a dicembre scorso. Quindi il profilo dei reati, della prevenzione dei reati ambientali diventerà assolutamente sensibile ed importante. Ecco, l'ultima considerazione che le voglio fare è, perché questa norma sembra essere nata per una volta tanto nel 2001, ma è nata bene, nel senso che sono previste anche delle scriminanti, ora non vorrei utilizzare termini sbagliati, cioè se l'azienda si dimostra virtuosa realizzando una determinata serie di comportamenti, allora ci sono realmente delle scriminanti rispetto al procedimento penale. È così, detta proprio in termini semplici? È esattamente così e nemmeno in termini semplici, perché ha esattamente configurato il meccanismo. Questa è una legge che ha due anime, è un'anima di minaccia, ci sono delle sanzioni molto gravi a carico delle società che commettono illeciti, una sanzione pecuniaria che può arrivare fino ad 1.500.000 euro e alcune pesanti sanzioni interdittive che possono arrivare fino al blocco dell'attività, ma soprattutto ha anche un'anima preventiva. Se l'azienda dimostra al giudice che la sta giudicando, al giudice penale, che si è organizzata diligentemente, che ha istituito delle procedure, dei sistemi di controllo, che ha istituito un cosiddetto organismo di vigilanza, potrà addirittura andare esente da ogni responsabilità. Quindi non soltanto ottenere dei benefici sulle sanzioni, ma addirittura andare esente da responsabilità. Su queste problematiche, e quindi sui necessari ed importanti aggiornamenti giurisprudenziali, chiunque fosse interessato può consultare liberamente la rivista che curo, è una rivista online, reattisocietari.it e per quanto riguarda invece più specificamente un settore molto esposto a queste problematiche, segnalo il sito 231farmaceutiche.it per ogni aggiornamento. Ecco, quello che lei ha detto è molto importante perché la legge di fatto passa un messaggio, cioè se si rispettano le regole, se si è in regola, a questo punto si può non subire a quelli che possono essere conseguenze di natura penale. In un paese come l'Italia, dove il 85% dell'impresa è fatta da piccole e medie imprese che sono all'ossatura del nostro paese, questo è un messaggio importante insito nella norma. Io, Avvocato, la ringrazio, se non ha nient'altro da aggiungere, passiamo ad altro argomento. Grazie a voi. Grazie mille per essere stato a punto a capo, dunque alla prossima e buon lavoro. Chiedo un attimo a Silvia Sgravatti se abbiamo aggiornamenti sui tanti temi che stiamo affrontando questa sera. Silvia? Sì, allora, un aggiornamento sulla situazione in Libia perché la Nato assumerà il comando delle forze della coalizione interna